Gli studenti del triennio dell'indirizzo pasticceria e arte bianca dell'Istituto Datini hanno preso parte al progetto Artigiani in classe, insegnami un mestiere, che li vede impegnati in una serie di laboratori con le aziende artigianali del territorio. Il corso ha l'obiettivo di trasmettere la passione e le competenze del maestro artigiano panificatore, pastaio, biscottiere e pasticcere, assistendo alle lezioni degli artigiani che hanno preso parte al progetto. Partiamo con questo progetto annunciato alla fine dello scorso anno scolastico, è un progetto che coinvolgerà l'assi del triennio, per loro sarà veramente un momento eccezionale conoscere i segreti delle ricette tradizionali, gli ingredienti utilizzati, quindi anche tutto il discorso della filiera corta e dei prodotti che vengono utilizzati in questi famosi laboratori artigianali della nostra città e soprattutto venire a conoscenza dell'esperienza, questo sarà proprio un punto fondamentale di ogni laboratorio. Il primo laboratorio è dedicato all'arte bianca per scoprire i segreti della panificazione e la sua storia. Gli studenti hanno assistito alla preparazione del lievito madre da parte del panettiere Mauro Pasquale del Panificio del Ponte. Certamente un'esperienza positiva anche perché oggi, bene o male, impareranno qualcosa che appartiene più a una panificazione antica, magari dello scorso secolo e saper fare, saper utilizzare il lievito madre diventa essenziale e importante. I laboratori con i vari artigiani proseguiranno fino a febbraio e permetteranno ai ragazzi di acquisire le conoscenze sul campo, fianco a fianco, con figure professionali, in modo tale da imparare a valorizzare i prodotti tipici della tradizione, capire il sacrificio e la dedizione necessari per imparare un lavoro complesso, ma allo stesso tempo gratificante come quello del pasticcere e del panettiere. Valorizzare le filiere corte del nostro territorio e di valorizzare le professionalità del nostro territorio. Quindi i ragazzi potranno non solo studiare o imparare delle ricette o imparare un mestiere, ma entrare a contatto con le professioni e con le professionalità e quindi con un mestiere. Dietro ad ogni grande pasticcere, ad ogni grande panificatore del nostro territorio, c'è una storia, è una storia anche familiare, spesso comunque una storia di progetto di vita.